Alla prima tappa del Focus Tour 2019 qui in IMQ siamo con Cristiano Montesi, amministratore delegato Elan. Perché Elan è tra gli organizzatori del Focus Tour? Elan da 30 anni oramai è presente nel settore sicurezza, quindi ci siamo poi con gli anni specializzati nella costruzione e nella progettazione di cavi resistenti al fuoco, quindi non potevamo non essere tra i principali attori del Focus Tour. Diciamo che siete stati proprio tra gli ideatori. Sì, è nato tutto così per gioco tra tre aziende marchigiane direi e abbiamo detto mettiamoci insieme perché abbiamo visto proprio l'esigenza della formazione, cioè i feedback che ricevevamo dal mercato quotidianamente oramai era quello di un'esigenza di capire quello che le normative hanno da offrire e come i progettisti e gli installatori devono poi seguire queste normative. E allora ci siamo messi insieme e abbiamo deciso di fare questo Focus Tour che sta avendo un riscontro veramente eccezionale. Infatti, tra l'altro con un relatore d'eccezione. L'ingegner Pier Giacomo Cancellieri dei Vigili del Fuoco ha sposato quasi immediatamente la proposta che io gli avevo fatto, l'avevo conosciuto anni fa al forum di sicurezza di Bergamo e è stato veramente entusiasta e mi ha quasi sorpreso questo entusiasmo perché è stato veramente felice di far parte del Focus Tour e del gruppo di aziende che si sono messe insieme. Per quanto riguarda le soluzioni di Elan in questo settore specifico, quali le più importanti? Beh, nel settore specifico della rivelazione incendi, diciamo che l'Elan Fire è il cavo che noi proponiamo ai progettisti e agli installatori come soluzioni per i sistemi di rivelazione incendi. Il cavo Elan Fire poi verrà pian piano implementato e seguirà le nuove normative. Parleremo di CPR, parleremo di EN 5575, parleremo poi di emissioni di gas e fumi tossici e di resistenza al fuoco. Diciamo che l'Elan Fire in questo momento è il nostro fiore all'occhiello come prodotto perché con la resistenza a 120 minuti è tra i top del mercato. Benissimo, tra l'altro Elan ha una vocazione anche per l'export. Ma sì, Elan diciamo che a volte è molto conosciuta in Italia ma sempre di più all'estero abbiamo raggiunto il 50% del fatturato con l'export quindi ci sta dando veramente grandi soddisfazioni. E quindi anche l'orgoglio del Made in Italy? Made in Italy è sempre ben visto all'estero e sempre sinonimo di garanzia, di qualità e di cose fatte ad opera d'arte. Diciamo